E' l'avvocato Paola Foti la nuova presidente della commissione mista conciliativa, strumento che si interfaccia tra pazienti ed ASL per risolvere situazioni delicate evitando che sfocino incontenziosi. Ospedale San Donato di Arezzo si rinnova la commissione mista conciliativa, un momento importante anche per il difensore civico della Toscana. Il suo compito è fondamentalmente quello di mettere vicino, di far comunicare e dialogare il più possibile il paziente che può rivolgersi anche al difensore civico e la azienda ospedaliere. Si lamentano per tantissime cose tra cui le liste di attesa per esempio, l'accoglienza anche negli ospedali, quindi queste sono le due principali questioni. Molto importante, rappresenta un ulteriore ponte di dialogo, un po' più strutturato. L'URP rappresenta sicuramente la prima risposta, non basta in alcuni casi, è necessario un secondo passaggio. I dati ci dicono che ha lavorato bene, che funziona e credo che rinnovare queste commissioni consente alla regione toscana, al consiglio regionale in questo caso, di avvicinare le nostre istituzioni nei territori. Le segnalazioni riguardano piccole disfunzioni, a volte anche molto rilevanti, ma sono sempre molto rilevanti per chi le vive, per chi ha avuto un intoppo, per chi ha avuto qualcosa che li ha feriti. La commissione funziona perfettamente ed è uno strumento importantissimo per i cittadini perché solamente tramite le segnalazioni è possibile migliorare il percorso sanitario. La sanità toscana è una grande organizzazione, dà tantissime risposte, ma assolutamente deve migliorare, si deve sempre migliorare. La promuoviamo ma con riserva.